Grazie a tutti. È stato un strano modo da scoprire, da soffrire il gioco in un momento cruciale, penso che i primi e ultimi gioco in un momento cruciale del gioco. Mi sono piaciuto per il risultato, ma non per la qualità di gioco, per l'attitudine, per le bravi. E' stato un gioco vivo. Abbiamo fermato il gioco con molti molto piccoli giocatori. Quando hai molti piccoli giocatori, hai bisogno di migliorare, per capire le diverse momenti dentro del gioco. Ma non posso dire nulla cosa che i miei giocatori di oggi. Quando hai detto strano sui giocatori, quali sono dei giocatori? Il primo gioco, il secondo gioco. Il primo gioco, il primo gioco e il secondo gioco. Il ultimo gioco di Martinelli ha finito il gioco. Abbiamo avuto una possibilità di scorrere 3-2, un minuto prima del ultimo gioco. Il primo gioco. Il primo gioco. Il primo gioco. Il primo gioco. tra l'altro gioco. Abbiamo avuto un gioco sull'interno gioco. Abbiamo visto molto la qualità di Arsenal. e noi rispettiamo molto loro, ma oggi sono felice per il risultato e quando dico che sono felice per il risultato, potete capire. Perché sono leader e hai giocato molte squadre in alto in classifica, quanto sei stato colpito dall'Arsenal? L'Arsenal hanno un fantastico giocatore, un fantastico giocatore, credo che sono felice in questo momento, ma per ottenere la Premier League devi avere felice. Per l'Arsenal può rispondere meglio a Arteta che io. Per l'Arsenal? L'Arsenal, credo che ho raccontato prima, credo che hanno giocato un gioco in un momento cruciale, dentro del gioco. Ma non è una cosa buona cosa. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie a tutti i giocatori, con questa qualità. Con questa qualità, non puoi giocare in Brighton o in mio team. Per sicuramente. Sì, la domanda era che ci sono molti rumori di McAllister per la Juventus, ma potete garantire che McAllister sarà qui? Non posso dire niente di più che McAllister è in Brighton, è un giocatore molto importante per noi. Non voglio sapere niente della sessione di trasferimento. Se mi chiede alcuni nuovi giocatori nel mio team, nel mio club, posso rispondere, ma posso dire niente di più. L'attacco è una zona che vuoi migliorare, che vuoi afflazzare? Penso che possiamo migliorare in ogni posto. In ogni posto. Ma il club conosce molto bene la mia idea, la mia opinione in termini di nuovi giocatori. e per il momento, per il momento, cominciamo la sessione di trasferimento. E ci vediamo. Quanto sei orgoglioso di vedere una squadra che anche sotto 3-0 e 4-1 continuava a lottare a combattere? Sono molto orgoglioso di questo. È una questione molto intelligente, perché puoi perdere il gioco, contro l'Arsena, contro la Città di Manchester, ma puoi chiedere il modo per perdere il gioco. e credo che i nostri giocatori sono fantastici oggi. Ma i nostri giocatori sono fantastici perché hanno guardato una squadra vivo, una squadra con la right mentalità, con la right forma di giocare. e per questo sono davvero orgoglioso. Quali istruzioni hai dato nell'intervallo? Gli ha detto il giocatore di tenere la testa alta e di continuare? Sì, credo che abbiamo dovuto trovare un gioco per ottenere il gioco. Per questo motivo ho parlato del momento cruciale dentro del gioco. Per esempio, il quarto gioco di Martinelli, il ultimo gioco. Il ultimo gioco era cruciale. in un momento cruciale. In un momento cruciale. Non possiamo affrontare questo obiettivo in questo momento dentro del gioco. Ma abbiamo molti giocatori. E abbiamo bisogno di capire, di capire i diversi momenti dentro del gioco. Andi? Quindi, potrebbe essere anche l'unico che ti abbia fatto quando hai sviluppato tanto l'Alessis e l'Alessis? Non c'era l'altra squadra? Sì, ma... Non sono corretto se parlo di Casseido e McAllister oggi. Alle persone conoscono la qualità di McAllister e di Casseido, ma credo che Gilmore ha giocato un gioco fantastico oggi. Pascale è lo stesso. Dobbiamo pensare solo su Everton per il prossimo gioco. Per analizzare cosa eravamo. Abbiamo fatto un errore, ma dobbiamo cercare di pensare per il prossimo gioco. Cosa hai imparato di Ivan? Cosa hai imparato di Ivan? Ok. Ma io ho conosciva prima del gioco che è un gioco molto buon gioco. Il gioco molto grande potenziale. Ma abbiamo giocato in 11, non più. E in questa posizione gioco il gioco Troussard, non? Ma credo che mi ha dato la risposta che è pronto per giocare nel primo gioco. e dopo il secondo gioco il gioco. In i prossimi gioco potrebbe iniziare il gioco, ma Troussard, Lallana, e dopo la prima volta, da poi... il gioco le gioco nell'altra gioco. Sì, penso. Undafa ha avuto bene con Everton. Il prossimo gioco potrebbe giocare. Sì, c'è un problema. personal reasons Brian I'll tell you last one the question was what are the main differences between Premier League games and games in Italy because in Italy it's hard to see a team fighting like that when it's down 4-1 summarizing your question is was this one no exactly because if you are down 4-1 you have to attack and you can concede maybe the fifth goal spesso noi pensiamo alla paura di prendere il quinto gol perché poi sembra male per perdere 5-1 but much often in Italy we are thinking about not conceding the fifth goal because we are much more afraid of finishing with that result and here they think in a different way they think of doing 4-2, 4-3, 4-4 yes there is a different way of thinking they think about scoring the second, the third and maybe the next goal again but I think that the football is a bit similar everywhere because in Italy we see results completely but I think football is similar almost everywhere because sometimes we see such kind of results flow in Italy thanks everyone thank you